tu cui sei pronto make your choice 50 e 50 pochissimo tempo per rispondere solo distinto ci sei ci sono assist o gol tutte e due pizza o asado asado scudetto o coppa america ai tutti mate o caffè mate instagram o twitter instagram maradona o messi messi veron o richelme veron reggaeton o rock reggaeton serie tv o film film gol al milan o gol all atalanta gol al milan barca a vela o a motore a vela federer o nadal federer ginobili o scola ginobili del potro o schwarzman schwarzman videogiochi sportivi o sparatutto sparatutto la casa di carta o elit la casa di carta tunnel o sombrero tunnel nota vocale o chiamata chiamata casual o elegante casual tennis o padel tennis sneaker o mocassino sneaker mare o montagna mare cane o gatto cane fantacalcio sì o no natale o capodanno natale allenamento mattutino o pomeridiano uguale tutte due treno o aereo treno cucinare o delivery cucinare smartphone o tablet smartphone tuku o hakim grazie non stato veloce ogilità uomini uscixivit urmai urmai sir uomai Grazie.